Anticipazioni terra amara, Betul si trova con Kadir e gli riferisce che Akan è profondamente innamorato di Zuley e intende investire 20 milioni di dollari per salvare la holding Yaman. Betul lamenta il rischio che i loro piani vadano in fumo. Kadir cerca di rassicurarla, suggerendo che nonostante Mehmet sia suo amico, si concentrerà solo sui profitti. Kadir le consiglia di permettere Akan di investire i soldi, altrimenti l'azienda rischia la bancarotta e non sarebbe più conveniente per loro. Successivamente, Kadir ricorda a Betul che desidera acquistare terreni da Yaman e organizzare la vendita. Tuttavia, Betul spiega che Zuley la tiene occupata e non può occuparsi di questo finché non riesce a distanziarla. Kadir, preoccupato, assume un'aria pensierosa. Nel frattempo, il sindaco elogia luce per l'organizzazione memorabile dell'evento della circoncisione. Il sindaco propone a Luce di organizzare uno spettacolo per il Festival del Cotone con l'assistenza dei dipendenti del comune. Luce, emozionata per l'offerta, accetta l'incarico. Il sindaco le presenta il responsabile degli eventi culturali, sottolineando che temeva che non avrebbe accettato a causa degli impegni legati al fidanzamento di Fikret con Betul, di cui tutti parlano a Kukurova. Successivamente, Kadir incontra Akan e gli comunica la decisione di Betul di investire 20 milioni di dollari nella holding Yaman. Kadir esprime la sua soddisfazione, credendo che questo permetterà loro di ottenere il controllo della metà delle azioni degli Yaman. Tuttavia, Akan sorprende Kadir affermando che investirà quei soldi per riparare i danni senza chiedere nulla in cambio. Akan ribadisce che non danneggerà gli Yaman fino al ritorno di Demir. Kadir, arrabbiato, nega di aver ucciso Demir quando Akan glielo chiede. Zuleyah è ancora nell'ufficio di Fikret e gli parla di una storia d'amore tra lui e Betul, sentita in paese. Fikret risponde che le chiacchiere sono comuni, ma Zuleyah gli fa notare che Betul è una ragazza educata e intelligente. Le consiglia di non passare la vita a piangere per Mujgan, ma di pensare al suo futuro. Nel frattempo, tra Akan e Kadir si scatena un duro confronto. Kadir accusa Akan di aver rovinato i loro piani di distruggere gli Yaman, sostenendo che il problema è il suo amore per Zuleyah. Kadir chiede a Akan i 20 milioni, ma quest'ultimo gli ricorda la sua origine da figlio di un contrabbandiere e di come lo abbia salvato da una vita miserevole. Akan avverte Kadir di non dimenticarlo, poiché può distruggerlo in qualsiasi momento. Conferma il suo amore per Zuleyah e avverte che la loro vendetta è rimandata fino al ritorno di Demir. Minaccia Kadir di distruggerlo se non obbedisce. Nel frattempo, Zuleyah e Fikret discutono con l'avvocato, il quale informa che non possono ottenere il risarcimento assicurativo e che fare confessare Erjan sarebbe inutile. Zuleyah viene informata che la sua richiesta di divorzio è in attesa di udienza, ma sarà difficile ottenerlo se Demir o il suo avvocato non si presentano. Questo potrebbe prolungare il procedimento per anni. Nel frattempo, Betul nota la macchina di Fikret davanti alla villa di Zuleyah e decide di andare a scoprire il motivo, recandosi con la madre alla villa sotto il pretesto di portare un dolce. Quando Betul entra nel salotto, saluta cortesemente Luce e chiede della presenza di Zuleyah e Fikret. Luce risponde che sono nello studio, occupati. Betul ipotizza che stiano discutendo dei problemi legati all'assicurazione e decide di unirsi a loro. Tuttavia, prima di entrare nello studio, si posiziona dietro la porta per ascoltare. Ascolta Fikret rassicurare Zuleyah, promettendole di non permettere più a nessuno di tradirla. Zuleyah esprime fiducia in lui e si scusa per eventuali offese. In quel momento, Betul fa il suo ingresso e chiede cosa stiano pensando riguardo al rimborso assicurativo. L'avvocato inizia a parlare delle possibili soluzioni, ma Zuleyah la interrompe, sostenendo che hanno delle opzioni da valutare. Betul osserva Fikret interessato alle soluzioni proposte. Tornata a casa, Betul è irritata dalla vicinanza tra Zuleyah e Fikret, dichiarando che non lascerà mai Fikret a Zuleyah. Nel frattempo, Kadir è furioso per le parole e le minacce di Akan. Per distrarsi, decide di trascorrere la notte con una donna. Racconta della morte di suo padre e dello zio, entrambi a causa di Adnan Yaman, membri di una famiglia di contrabbandieri. Kadir promette di vendicarli, distruggendo anche Akan, rivelando la sua vera identità come Abdul Kadir, il figlio del contrabbandiere. Akan, nel frattempo, si trova nell'ufficio di Zuleyah, guardando una foto di lei mentre riflette sui momenti passati insieme. Successivamente, si reca alla villa, parcheggiando la macchina vicino alle mura e osservando Zuleyah dal terrazzo. Il giorno successivo, il padre di Umit si reca sulla tomba della figlia, piangendo e chiedendo perdono per non essere riuscito a vederla un'ultima volta. Si alza con l'aiuto di un bastone e si allontana zoppicando. In seguito, l'uomo si presenta al procuratore, accompagnato da un avvocato, rivelandosi come il padre di Umit, l'ex primario dell'ospedale. Esprime il sospetto che la morte di sua figlia non sia stata causata da un incidente, ma potrebbe essere stato un omicidio. Ricorda di aver ricevuto una telefonata anonima che suggeriva che Umit fosse stata uccisa da un colpo di pistola, e l'incidente fosse solo un diversivo. Tuttavia, decide di non condividere questa informazione con il procuratore. L'avvocato chiede la riesumazione del corpo di Umit e un'autopsia per determinare la causa della morte. Kadir, dopo un litigio con Akan, decide di scusarsi con quest'ultimo per il suo comportamento irrispettoso. Assicura Akan di aver chiuso con il suo passato. Akan, in compagnia di Zuleya, menziona un affare importante che sta trattando e le propone di partecipare con lui. Vedendola perplessa, le chiede perché lei diffida sempre di tutti. Zuleya risponde che è diffidente a causa delle delusioni che ha vissuto nella vita. Successivamente, si recano al ristorante, dove Akan chiede a Zuleya di parlare di Yilmaz. Zuleya racconta che Yilmaz è stata l'unica persona che non l'ha mai delusa e che ha sempre pensato a lei. Tuttavia, il destino ha impedito che stessero insieme. Akan le chiede se avrebbe voluto essere con lui, e lei risponde positivamente. Zuleya, poi, fa notare a Akan che mentre lei racconta molto di sé, lui non parla mai. Akan, guardandola negli occhi, le confida di non essersi mai sposato perché fino a quel momento non si è mai innamorato. Quando Zuleya parte, Akan riflette sul fatto che una volta scoperto che lui è Akan Gumusoglu e che le ha sempre mentito, lei lo odierà. Nel frattempo, Kadir è arrabbiato con Betul e le chiede il motivo per cui non è più andata da lui. Betul risponde che ha altre cose da fare, ma Kadir la avverte che non può lasciare la loro società perché lui lo impedisce. Poi le propone di fondare insieme un'altra azienda, alla quale lei potrà vendere i prodotti degli Yaman a metà prezzo, garantendo loro profitti considerevoli grazie al salvataggio dell'azienda da parte di Mehmet. Betul esprime preoccupazione riguardo a possibili scoperte, ma Kadir le assicura che farà in modo che nessuno, soprattutto Zuleya, venga a conoscenza dei loro piani. Nel frattempo, il corpo di Umit viene riesumato e durante l'autopsia viene trovato un proiettile nel suo corpo, confermando le preoccupazioni del padre. Il procuratore conclude che Umit è stata uccisa, come sostiene suo padre. Il giorno successivo, Zuleya legge la notizia dell'omicidio di Umit sul giornale e informa immediatamente Fikret. Gli comunica che il padre di Umit ha richiesto la riesumazione del corpo e l'autopsia ha rivelato che è morta per un colpo di pistola. Fikret si domanda perché il padre avesse quei sospetti, ma Zuleya, agitata, teme che la polizia la stia già cercando per arrestarla, specialmente se hanno trovato la pistola con le sue impronte. Fikret ribatte che se avessero trovato la pistola, l'avrebbero già arrestata. Zuleya, visibilmente agitata, mostra la notizia a Luce, spiegandole che in paese tutti incolpano Demir, ma lui è innocente perché è stata lei a uccidere Umit. Luce è sconvolta, e in quel momento arriva Fikret che cerca di calmarla. Tuttavia, Zuleya gli dice che andrà a confessare per scagionare Demir. Sia Fikret che Luce cercano di farle capire che confessare avrebbe conseguenze gravi, soprattutto per i loro figli e per l'azienda. Vengono interrotti dall'arrivo del comandante della polizia, che la avverte di presentarsi dal procuratore. Zuleya e Fikret si trovano nell'ufficio del procuratore, il quale dichiara che Umit è stata uccisa da un proiettile di pistola. Sospettano che l'assassino sia Demir Yaman, considerando le minacce ricevute in passato. Tuttavia, avvertono Zuleya che potranno dimostrarlo solo quando troveranno l'arma con le impronte. Il procuratore avverte Zuleya che suo marito non ha scampo e la esorta a convincerlo a costituirsi. Se Demir non si presenterà, sarà dichiarato colpevole di due omicidi, condannato e giustiziato. Akan si reca da Kadir e gli chiede l'arma con cui Zuleya avrebbe ucciso Umit. Kadir accetta di fornirgliela, ma pone una condizione. Akan deve comprare 20 milioni di azioni degli Yaman e cederle gratuitamente. Solo in questo modo potrà contribuire a salvare Zuleya. Tuttavia, Akan risponde che può tenersi la pistola, poiché non è così profondamente innamorato di Zuleya come Kadir può pensare. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!